Fu molto popolare durante il Medioevo. San Giuliano l'ospedaliere, e soprannominato anche il povero, fu molto popolare durante il Medioevo. Si narra che uccise per errore i propri genitori e per penitenza andò a Roma per ottenere la soluzione e dal ritorno costruì un ospizio sulla riva di un fiume, dove lui e la moglie servivano i poveri e traghettavano i viaggiatori. Per questa ragione è venerato come santo patrono dei barcaioli, dei locandieri e dei viaggiatori. È probabile che tutto il racconto sia immaginario. Commento Per la legge d'evoluzione non è importante che un racconto sia vero. Alla legge interessa che il conoscere quel racconto, vero o falso che sia, provochi delle vibrazioni in chi ne viene a conoscenza, e che queste vibrazioni passino dal corpo fisico al corpo astrale. Dal corpo astrale al corpo mentale e dal corpo mentale alla coscienza, se questa è pronta per apprendere. Allora l'individuo trae delle conclusioni che rimanda indietro al corpo mentale, il quale è attraversato da queste conclusioni che rimanda indietro al corpo astrale, che le rimanda al corpo fisico per sperimentare le conclusioni raggiunte. Il circolo evolutivo avviene in questo modo.